Gli agriturismi e i cuochi contadini di Terra Nostra Verona, l'associazione di col diretti per l'ambiente e il territorio, propongono in luoghi immersi nella natura una cucina sana e naturale per far vivere le vere emozioni dei sapori tipici della tradizione. Gli agriturismi sono il luogo ideale per le famiglie o per chi ama stare lontano dai luoghi affollati. Trova il tuo agriturismo sul sito agriturismoverona.it, campagnaamica.it o su Facebook.